La Bibbia dice che la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e proprio per come distruggere la religiosità Gesù rese lo Spirito e disse tutto è compiuto e quel sacrificio non è stato in vano perché Dio continua attraverso di noi a compiere questo grande miracolo, la salvezza e il perdono dei peccati. Su quella croce l'agnello salì, su quella croce Gesù Cristo morì, per quella croce giustizia e pietà, con quella croce il tuo cielo si aprì, su quella croce l'amore trionfò e il mio peccato Gesù Cristo pagò, con quella croce il tuo costo morì, per giustizia e pietà, con quella croce il tuo costo morì, per quella croce il tuo costo morì, il re di gloria, il Cristo Gesù. Io so che gloria ed onore e la grande maestà appartengono a te Gesù, perché con grande potenza l'unto di Dio Gesù ha vinto per me, ha vinto per te, su quella croce. Su quella croce l'amore trionfò e il mio peccato Gesù Cristo pagò, su quella croce al tuo costo morì, il mio peccato Gesù Cristo pagò. su quella croce il tuo conto morì, il mio peccato Gesù Cristo pagò, su quella croce il re di gloria il Cristo Cristo Gesù. Io so che gloria ed onore e la grande maestà appartengono a te Gesù Perché con grande potenza, l'unto di Dio, Gesù ha vinto per me, ha vinto per te Io so che gloria ed onore e la grande maestà Appartengono al re perché con grande potenza, l'unto di Dio, Gesù ha vinto per me, ha vinto per te Su quella croce Signore questo è per te Alleluia 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 Alleluia